Coronavirus continua la discesa della curva, oggi non ci sono stati recessi nel territorio dell'Astro 4 legati al Covid-19. Gli ospedalizzati tutti a sesto elevante sono 30 e nessuna in terapia intensiva, come ieri. Le sorveglianze attive rispetto a 24 ore fa passano da 253 a 264. Un paziente residente a Camoglie di 78 anni si è spento però nel reparto di malattie infettive del San Martino di Genova. A Rapano intanto i titolari di pubblici esercizi di somministrazione artigiani e alimentari potranno usufruire delle aree pubbliche non utilizzate e disponibili in prossimità ai locali nel periodo che vada al 1 giugno al 31 ottobre. La CGL nel frattempo lancia la sua campagna informativa rivolta ai molti lavoratori stagionali del settore turistico del Tiguglio. Coloro che non hanno il lavoro per la crisi coronavirus e gli obblighi di distanziamento sociale in base ai provvedimenti statali hanno diritto a 500 euro al mese per 5 mesi. A Sestri Levante infine 50 euro al barbiere non vuole il resto e due mesi che non lavorate. Nei primi giorni di riapertura all'inatteso gesto di solidarietà da parte di un cliente nella frazione di Riva Trigoso. Oggi non ci sono stati decessi nel territorio dell'Asl 4 legati al coronavirus. Gli ospedalizzati tutti a Sestri Levante sono 30 e nessuno in terapia intensiva come ieri. Le soveglianze attive rispetto a 24 ore fa passano da 253 a 264. Secondo i dati diffusi invece dal presidente della regione Giovanni Totti, che cita una ricognizione della Camera di Commercio, ieri hanno riaperto circa 16.000 partite IVA di esercizi commerciali e 4.500 di servizi alla persona, oltre l'80%. Il governatore parla anche delle spiagge, affermando che domani ci verrà proposto un protocollo che varrà per tutta la Liguria. Per quanto riguarda invece le possibilità di spostamento tra comuni limitrofi di regioni diverse, per chi ha necessità specifiche e documentabili, non è un percorso facile e breve, ma credo che lo avvieremo in settimana con Toscana e Piemonte. Poi spetterà le prefetture e al Ministero esaminarlo e approvarlo. Totti si appella anche ad Alitalia. Deve ripristinare i due voli cancellati sulla tratta Genova-Roma a inizio della pandemia. Con la fine del picco emergenziale e l'avvio della ripartenza e dalla fase 2, la compagnia di maniera italiana deve affiancare il nostro Paese e fare in modo che l'Italia intera riparta ripristinando i collegamenti tra Genova e Roma, fondamentali per il nostro capoluogo. Taglio e barba sono 13 euro e il cliente, poggendo una banconota da 50 euro, risponde tenete il resto, per solidarietà con voi che non lavorate da due mesi. È successo a Seste Levante, nella barberia Vivas, situata nella frazione di Riva Tregoso. Tenete il resto, ha ripetuto il cliente, non è una mancia, ma semplicemente solidarietà verso di voi che siete rimasti chiusi senza lavoro per due mesi, mentre io ho continuato a ricevere lo stipendio. Stupore, qualche lacrima di commozione da parte di Giorgia Alessandro, gestori del negozio. Siamo rimasti senza parole per il gesto che gratifica più dei 600 euro del governo, hanno detto. Il generoso Sestrese è un dipendente della Telecom. La CGL lancia la sua campagna informativa rivolta ai molti lavoratori stagionali del settore turismo del Teguglio. Coloro che non hanno lavoro per la crisi coronavirus e gli obblighi di distanziamento sociale, in base ai provvedimenti statali, hanno diritto a 500 euro al mese per cinque mesi. I lavoratori stagionali del settore turismo attualmente disoccupati e non per settore di naspi o di ammortizzatori sociali, possono a partire da domani, 20 maggio, fare richiesta per ottenere un bonus da 500 euro al mese per cinque mesi ed essere inseriti in un programma di formazione, dice Domenico del Favaro. La Filcamps CGL è a disposizione per aiutare i lavoratori nella compilazione della domanda. Questa importante possibilità per i lavoratori del turismo è il principale risultato del nuovo patto per il turismo che Filcamps, insieme a CGL Liguria e alle altre organizzazioni sindacali, ha sottoscritto con la Regione. Il patto, giunto al terzo anno, è stato aggiornato in base alla situazione straordinaria dal momento e prova a dare una risposta ed una copertura economica propria a quei lavoratori che aspettavano la stagione per ricominciare e che ora sono in grossa difficoltà. Anche nel Tiguglio la Filcamps è a disposizione per verificare i requisiti e per aiutare nella compilazione delle domande. Chi volesse informazioni può chiamare il numero fisso 0185 187151 oppure il telefono cellulare 331 68 94 593. La Filcamps CGL è da sempre a fianco dei lavoratori stagionali. In questo momento di crisi e di assenza di lavoro, con una ripartenza molto difficile, proprio questi lavoratori rischiano di essere più fragili, senza certezze né lavoro né aiuti, conclude il sindacalista. Per questo abbiamo chiesto a Regione Liguria di mettere in campo risorse economiche eccezionali a loro tutela. Occupazione del suolo pubblico. La Giunta Comunale di Rapallo ha approvato questa mattina una delibera riguardo le ulteriori misure di sostegno alle attività di risurrazione e pubblici esercizi della città a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Tra i punti principali la possibilità per i titolari di pubblici esercizi di somministrazione e artigiani alimentari di usufruire delle aree pubbliche non utilizzate e disponibili in prossimità ai locali, nel periodo che va dal 1 giugno al 31 ottobre. La finalità è quella di destinare a nuove occupazioni o all'ampliamento di quelli esistenti fino ad un massimo della superficie già concessa per il posizionamento di tavolini, sedie, panchine, ombrelloni e altre strutture mobili di delimitazione dell'area. Questo a condizione che vengono garantiti idoni spazi destinati al transito pedonale, all'accesso delle altre attività e ai portoni delle civili abitazioni e fatti salvi i diritti di terzi. Il tema dell'arredo degli spazi pubblici riveste in particolare importanza per la valorizzazione della qualità estetica della città e di conseguenza dell'attrazione e dell'accoglienza dei cittadini e dei visitatori. Viene dunque posta particolare attenzione alla cura degli allestimenti. Saranno ammissibili infatti elementi e complementi d'arredo di tipologie e design semplici, coordinati, privi di slogan pubblicitari e non ancorati al suolo. Fincantieri Infrastructure, attraverso la sua controllata Fincantieri Infrastructure Opere Marittime, ha firmato il contratto per la ricostruzione, rafforzamento e ampliamento del porto turistico Caolio Riva di Rapallo. I lavori dovrebbero partire a giugno e durare circa 15 mesi. Il porticciolo della città ruentina, creato da Caolio Riva, è di fatto il primo porto turistico italiano progettato e costruito nel lontano 1971. Due anni fa, nel 2018, è stato profondamente danneggiato dalla mareggiata che colpì tutta la riviera Ligure. Viene eseguita la misurazione della temperatura corporea agli percorpi leudi di Carasco per tutti i clienti in entrambe le entrate. Avevamo già sperimentato la procedura, spiega Alice Pini, direttore del centro commerciale del circuito Coop Liguria. Nessuno ha già riportato temperature oltre o pari a 37 gradi e mezzo e tutta la clientela ha apprezzato questo servizio che garantisce più sicurezza per tutti e che continuerà nei prossimi giorni insieme alla misurazione delle temperature corporee, conclude Pini. Vengono consegnati i guanti se le persone ne sono sprovviste oppure richiesto di igienizzare i loro. A tutti si raccomanda di tenere sempre la massima. Una pista ciclabile nel centro storico di Chiavari. L'assessore comunale alla viabilità Giuseppe Corticelli ha annunciato che a breve verrà realizzato una pista ciclabile ad Anello. Partirà dall'inizio di via Vittorio Veneto e passerà in piazza Matteotti, via Rivarola, piazza Mazzini, via Remolari e via Dall'Osso per arrivare nell'ultimo tratto di via Materi della Liberazione, il Carugio, e sfociare in Corso Millo, dove verrà riattivato un vecchio percorso ciclabile costruito anni fa. Dal 15 giugno al 15 settembre, invece, il tratto tra la traversa di Corso Valparaiso e Piazza Gagliado diventerà pedonale. Questo per consentire alle attività commerciali della zona di ampliare gratuitamente le proprie occupazioni. Il tratto diventerà poi ciclabile e si collegherà alla nuova passeggiata mare attigua alla colonia Fara in fase di completamento. I posteggi persi saranno recuperati in via dei velieri e nelle aree attive all'Istituto Torriglia. Un saluto a tutti e ben ritrovati. Vediamo invece adesso l'articolo 187 bis del decreto rilancio che provvede a sostegni alle imprese di pubblico esercizio. Questo articolo dispone che, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall'emergenza sanitaria del Covid-19, le imprese di pubblico esercizio, titolari di concessioni e autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati fino al 31 ottobre del 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Devo precisare perché nel testo dell'articolo non è scritto, ma si riesce a ricavare questo ulteriore dato dalla relazione illustrativa, che questa esenzione parte dal 1 maggio del 2020 e termina con il 31 maggio del 2020. Per lo stesso periodo è stata anche concessa la possibilità di presentare nuove domande di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, allegando esclusivamente la sola planimetria e questo inderoga a quelli che sono evidentemente tutte le regole che sono richieste in particolare dal DPR 642 del 72. Sempre per assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza Covid-19, di cui ovviamente in questi giorni abbiamo sentito ampiamente parlare, e comunque sempre entro la data del 31 ottobre del 2020, la pose in opera temporanea su vie, piazze e strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico da parte dei soggetti di Quelcoma 1, che sono le imprese di pubblico esercizio, di strutture amovibili quali deor, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché siano funzionali all'attività di ristorazione, non sono subordinate all'autorizzazione di cui è l'articolo 21 e 146 del Decreto Legislativo 42 del 2004. In altri termini è stato disciplinato che questi ulteriori spazi di cui l'impresa di pubblico esercizio ha la necessità di dover usufruire per far fronte a questi distanziamenti, non hanno bisogno di una preventiva autorizzazione da parte dell'ente comunale. Sempre per rimanere nel tema dei bonus, vi voglio anche rappresentare che l'articolo 192 della bozza di decreto che stiamo esaminando disciplina la concessione di un bonus, una tantum, a favore delle edicole, sempre con il riferimento di un sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria, connessa alla diffusione del Covid-19, viene concesso un bonus alle persone fisiche e quindi solo ed esclusivamente a quelle, esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste. La condizione è che queste persone fisiche non siano titolari di reddito da lavoro dipendente o da pensione e questo contributo, una tantum, è riconosciuto nella misura fino ad Euro 500. Le modalità di erogazione le dovremo attendere ancora per qualche tempo perché il quarto comma dell'articolo 192 in commento ci rappresenta che verrà emanato un decreto del capo dipartimento dell'informazione e l'editoria, che verrà emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Quindi la prassi la conoscete, questo decreto verrà, una volta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, verrà poi sottoposto all'esame del Parlamento, nei 60 giorni successivi deve essere approvato e quindi dobbiamo attenderci un tempo non inferiore a circa tre mesi da oggi per avere cognizione di quale sarà la documentazione richiesta e quali saranno i termini per la presentazione delle domande per ottenere questo bonus. Vi anticipo che nei prossimi interventi che andrò a fare vi parlerò del credito d'imposta per le locazioni degli immobili strumentali che hanno avuto con il legislatore del decreto rilancio una nuova e diversa disciplina e poi volevo anche darvi qualche ragguaglio relativamente a quelle che sono le misure di natura economica, i contributi a fondo perduto di cui si è parlato in quest'ultimo periodo e andremo a vedere come verrà e sarà disciplinata la richiesta di questi stessi contributi. Vi saluto e vi do appuntamento per i miei prossimi interventi ricordandovi sempre che tramite l'emittente si potranno rivolgere delle domande a cui mi premurerò di dare concreta risposta in questi miei interventi. Approvato il PUC di Chiavari Fase 2 Ripartono i lavori pubblici Continuano le operazioni di sanificazione di strade a marciapiedi ANAS cede al comune di Chiavari un tratto di strada statale Bandiere blu e gestione delle spiagge libere È stato approvato dall'Aggiunta regionale il Piano Urbanistico Comunale, lo strumento fondamentale che risponde alle esigenze di rinnovo e conservazione di qualità degli spazi e dei servizi della città. Il procedimento, iniziato nel 2015, è stato oggetto di modifiche sino al 2018. Due le aree decisive di intervento, prima fra tutte la colmata mare che rimarrà ad uso totalmente pubblico dove verrà collocato il depuratore di vallata, interrato, comprensivo di difese a mare per circa 14 milioni di euro. 600 metri lineari di passeggiata con nuove strutture commerciali, aree verdi e impianti sportivi un parcheggio pubblico coperto su due livelli con circa 900 stalli totalmente gratuiti e la realizzazione di una nuova piazza a fronte mare di circa 4.000 metri quadrati. E' prevista inoltre la costruzione di un campus scolastico previa valutazione dell'impatto ambientale del progetto definitivo del depuratore. Tutto ciò si concretizza in diversi milioni di euro di investimento a carico di Ato per la riqualificazione totale dell'area. Infine, la zona prelitorriglia sarà interessata da un restyling generale del waterfront, funzionale ad attrarre anche investitori appartenenti alla Silver Economy. Questi interventi includeranno una nuova passeggiata con un parcheggio latomonte, impianti sportivi, verde pubblico, strutture turistiche ricettive, l'ampliamento della casa di riposo e nuove strutture di riabilitazione. Con l'avvio della fase 2 dell'emergenza sanitaria sono in corso diversi lavori pubblici in città. Procedono celermente le operazioni di asfaltatura delle principali vie cittadine. Terminate in via Fiume, corso Montevideo, corso Garibaldi, via Nino Bixio, si procederà poi in via Devoto e in corso Lima. Pericolante e danni in pessimo stato, il muro presente in corso De Michiel, angolo corso Brizolara, è stato demolito e verrà ricostruito in cemento armato, senza modificarne le dimensioni. Un intervento importante richiesto anche dalla direzione del carcere, soprattutto per la sicurezza di chi quotidianamente transita in quella zona. In questi giorni anche l'ingresso del parco di Villarocca è interessato da specifici lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione delle barriere architettoniche e il ripristino della passerella pedonale d'accesso, intervento che si inserisce all'interno del progetto generale di restyling e valorizzazione di Villarocca e del suo parco, come il restauro della villa, del tempietto pompeiano e la sistemazione del padiglione del Tè, di cui è in corso la gara. Dopo le forti piogge di novembre e dicembre, che hanno provocato allagamenti localizzati in tutta Via Preli, sono in corso gli interventi necessari per la messa in sicurezza del tratto. È stata riscontrata un'interruzione del tubo di smaltimento delle acque meteoriche, con diametro di 60 cm, che giunge solo fino a metà di Via Preli, provocando un blocco al deflusso e generando una sorta di piscina naturale in caso di forti venti meteo. Non è stato quindi predisposto il collegamento necessario a smaltire le acque piovane direttamente a mare. Da qui l'esigenza di inserire una nuova tubazione che si innesti con quella presente in Via Risso, collegata alla rete di Via dei Veglieri, per giungere facilmente a mare. Anche la rete fognare, presente tra le nuove costruzioni di Via Preli e Piazza Gagliardo, risulta insufficiente a fronte dei nuovi insediamenti abitativi, necessario quindi potenziarla sostituendo il tubo con uno di diametro maggiore. Chiavari è stato il primo comune del territorio a mettere in campo servizi specifici di contrasto alla diffusione del Covid-19, come l'igienizzazione di strade, arredi urbani, aree giochi e contenitori di raccolta dei rifluti. Da inizio pandemia ad oggi, gli operai hanno effettuato 43 giorni di sanificazione degli ambienti cittadini, con una media di 35 km al giorno. Grazie all'impiego di un automezzo adottato di barra lavastrade, per un totale di 1.505 km da sommare ai 162 di pulizia manuale dei parciapiedi. Tali operazioni proseguiranno per tutta la fase 2, secondo uno specifico calendario. Infine, in vista della riapertura al pubblico, il comune di Chiavari è intensificato con cadenza settimanale e l'igienizzazione di tutti gli uffici comunali nelle sedi di Piazza Nostra Signora dell'Orto, Via Del Pino, Piazzale San Francesco, Via Parma, oltre all'installazione di ulteriori barriere in plexiglass. Chiavari allarga il confine del proprio centro abitato grazie alla cessione da parte di Anas di una porzione di strada statale. Il confine viene spostato di 1.056 metri lineari in direzione ponente rispetto alla curva del santuario di Nostra Signora dell'Olivo. Firmato questa mattina, il verbale di cessione del tratto compreso tra il km 483 più 200 e il km 484 più 256, che da oggi diventa di competenza comunale. Un passo importante per permettere una regolamentazione della viabilità e un aumento della sicurezza dei cittadini che accedono al santuario e alla cava di Bacenza. Nei prossimi mesi si procederà con le operazioni di installazione di due semafori, uno all'incrocio con la strada che porta alla discarica per agevolare l'uscita e la manovra dei mezzi pesanti, l'altro in prossimità dell'attraversamento pedonale presente nel tratto in curva, previsti ulteriori dispositivi per il controllo della velocità. Chiavari conferma la doppia bandiera blu, un risultato importante per il turismo cittadino, riconoscimento ottenuto sia per il porto Luigi Gatti che per le spiagge apponente della foce del Rupinaro, con una novità. Da quest'anno anche la Renille, Tigo e Lungomare e Giussani riceve il vestito della FEE, compresa la spiaggia per tutti, per i servizi offerti e i disabili e le loro famiglie. Per quanto riguarda la stagione balneare e la gestione delle spiagge libere, la posizione dell'amministrazione comunale è chiara. Rimarranno ad accesso libero e gratuito, come lo sono sempre state, senza ampliamenti da parte degli stabilimenti privati. Per la sicurezza degli arenini varranno impiegati i bagnini, già in servizio da due anni, mentre per il prestigio e la verifica delle misure di distanziamento sociale è intenzione del Comune avvalersi dei percettori del reddito di cittadinanza, ovvero di tutte quelle persone che ricevono sostegno dallo Stato e che devono rendere dei servizi ai comuni di residenza. Previsioni per domani, mercoledì 20 maggio. Nuvolosità irregolare al mattino, con maggiori adensamenti sui versanti padani di Ponente e di Levante. Dal pomeriggio cielo poco nuvoloso ovunque. Venti settentrionali, in rinforzo notto e tempo, localmente superiori sui rilievi. In calo dal pomeriggio fino a moderati. Mare tra poco mosso e mosso sotto costa. In calo dal pomeriggio. L'umidità su valori medio-bassi. Le temperature previste. Sulla costa tra 19 e 28 gradi. Le lente terra tra 16 e 26 gradi.